Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio oggi siamo all'uoto qua, ora in questo momento in un ristorante perché è l'una e dobbiamo ancora mangiare che praticamente è un paese della Francia perché sono ancora in vacanza sul mare ma porco schifo, non ci vede niente vabbè, vi farò vedere dopo dell'immagine e farò dei video abbiamo appena finito di mangiare ora ci stiamo dirigendo all'acquario di questa città come qui è? c'è un'arco l'arco 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 il corso il corso guarda quella non ci vede forse bene come si vabbè questo l'arco 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 un po' più mi abbonato si sono blu, tanti e grandi si è basso il tuo qui c'è tutto guarda lì c'è tutto continuiamo il nostro tragetto qua i pesciolini guarda le stelle marine ah le stelle marine se le vuoi le toile sono rocchie non? questa è la carrella le toile le toile d'omare c'è la rouge la stella marina queste sono vive aspettate oh vedete che pesce strane pesce a punta la stella marina vabbè continuiamo il nostro tragetto dai pesce piatto vabbè qua tutti gli altri pesci grandi un bebe di un bebe di un bebe di un bebe di un piccolo di squalo non si vede bene ecco il piccolo di squalo si vede il piccolo di squalo si ma scusa non li mangia? qua c'è il piccolo di squalo guarda qua no c'è il piccolo di squalo questo è proprio piccolo un bebe guardate scusa ma non si mangi i pesci qua vabbè oh è il piatto oh vedi che è grande oh vedi che è grande vabbè dai guardate che sono pesce questo come è lontano l'occhio perché 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 il pò che è il tigre perché 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 il pò che è il ciò che cosa non si ci si ecco ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ecco, il passato, il passato. Vado a mangiare questi pesci, secondo me, no? Ah, vedi? Vedi, perché non ci sono. Vedete? Che stupiata. Due, senza. Due, ma vediamo se se li mangia. No, ma perché non mangi i pesci? Che scolo? Eh. Perché li attaccano. Voi vedi. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! I suscepti che si è lì! Il nostromberso affamato il sommario del matrimon KNOWITLE È un tipo di Weg Wright Rimari che ti sono permette di andare più remote in altrote è il pesce è il pesce che gli danno gli danno il pesce prima erano sopra invece gli dove scendono e la sopra e la sopra e la sopra e la sopra ma che bello però le foghe e la sopra e la sopra e la sopra questo video finisce qua spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video con Super Calcio e la sopra